Oroscopo del giorno. Mercoledì, 8 novembre 2023. Ariete. Amore. Attenzione a questa giornata, perché in amore potrebbero verificarsi dei momenti no, in quanto la posizione di venere non sarà troppo buona. Questo non aiuterà nemmeno chi è single. Lavoro. Mercurio sarà favorevole, e renderà la vostra giornata lavorativa abbastanza soddisfacente. Aspettatevi degli ottimi risultati. Toro. Amore. Non sarà un giorno troppo piacevole per le coppie, o per chi spera di fare incontri nuovi. Le stelle non vi porteranno delle grandi novità per il settore amoroso. Lavoro. Si attende un recupero di energie per voi. Vi serviranno sicuramente in ufficio. Gemelli. Amore. A partire da questo mercoledì, in amore le cose andranno ancora meglio di prima. Si attendono miglioramenti e colpi di fortuna, per tutti i tipi di rapporto personale ed affettivo. Lavoro. Bene per il lavoro, dove tutto continuerà in modo piuttosto sereno. Potrete impegnarvi senza intoppi. Cancro. Amore. Occhio, perché a partire da oggi potreste riscontrare alcuni problemi in ambito sentimentale. Potrebbero verificarsi delle discussioni con la persona che avete al vostro fianco. Per i single, difficilmente arriveranno delle grandi novità. Lavoro. Giove e Mercurio saranno dalla vostra parte. Con il lavoro tutto andrà per il meglio, e potrete ottenere degli ottimi risultati. Leone. Amore. La posizione di Venere per oggi sarà particolarmente attiva, e vi porterà delle ottime situazioni sentimentali. Sia per le coppie che per i single, sarà un giorno da poter sfruttare nel campo emozionale. Lavoro. Bene Mercurio, anche se le energie, per via di Marte, non saranno affatto positive oggi. Vergine. Amore. Avrete Venere in congiunzione, e fareste bene a godervi la giornata con la persona che avete accanto, perché da domani le cose non andranno allo stesso modo in amore. Lavoro. Un mercoledì un po' è negativo per i vostro lavoro. La posizione di Mercurio non sarà affatto delle migliori. Bilancia. Amore. Bellissima giornata da trascorrere con il proprio partner, o magari con una conoscenza nuova se si è single. Venere sarà in una buona posizione di congiunzione. Lavoro. Presto avrete una fantastica posizione di Mercurio in vostro favore. Iniziate a progettare. Scorpione. Amore. Una giornata di novembre che potrebbe rivelarsi abbastanza fortunata in amore, per ogni tipo di rapporto esistente. Per le coppie, per i single che vogliono fare conoscenze. Anche per la famiglia e gli amici. Lavoro. Giornata tranquilla per il lavoro, ma presto potrebbero giungere novità più interessanti. Sagittario. Amore. Venere dalla vostra parte, renderà questo mercoledì abbastanza tranquillo e piacevole per voi. Tutto filerà in modo liscio, e non avrete nulla di cui preoccuparvi in amore. Lavoro. Situazione stabile e piuttosto stazionaria per quanto riguarda il vostro lavoro. Poco movimento in ufficio. Capricorno. Amore. A partire da questa nuova giornata del mese, potrebbero iniziare ad esserci un po' di problemi in amore. Per oggi infatti, Venere inizierà a voltarsi contro di voi, e da qui in avanti potrebbero spuntare in toppi per i rapporti personali. Lavoro. Molto bene invece sul posto di lavoro. Qui avrete il favore delle stelle, e potrebbero arrivare delle novità. Acquario. Amore. Il favore del pianeta dell'amore potrebbe rendere facilmente questo giorno molto speciale, per le coppie, e per i single che vogliono fare delle nuove conoscenze. Lavoro. Attenzione al lavoro, perché le stelle odierne potrebbero portarvi un po' si stanchezza. Le energie saranno infatti molto basse. Tesci. Amore. Miglioramenti in amore, soprattutto per chi nell'ultimo periodo ha dovuto affrontare diversi problemi con il proprio partner. Una giornata niente male questa di novembre. Lavoro. Bene per il lavoro. Concentratevi ed impegnatevi con i progetti professionali. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie.